Buonasera Matteo Lauriole, intanto raccontaci il tuo gol che hai cercato spesso in azione d'angolo e finalmente hai arrivato, come è andato? Tutte domeniche provo a fare gol sui piazzi di calcio d'angolo, oggi mi è venuto ci sono andato vicino al primo tempo, però al secondo tempo ho fatto gol Matteo, una partita che avete atteso almeno per mezza stagione, era portato lo snodo, la salvezza e ci siete arrivati in condizioni splendide, quindi state bene in questo periodo e la misura non poteva essere che netta con noi stava Sì, abbiamo meritato questa salvezza perché l'aspettavano da tanto, era una squadra alla nostra portata Sì, per tanti sacrifici che abbiamo fatto durante la stagione oggi meritavamo questa salvezza prima delle tre finali che ci toccavano dopo Matteo, dici di questo gruppo, di questa squadra che è stata modellata nel corso dell'anno e che secondo me adesso sei in una condizione migliore Il gruppo fantastico di tutti i giovani è stata veramente una bella esperienza per me la prima volta che giocavo fuori casa, è stata una bellissima esperienza Peccato per la fase centrale della stagione perché probabilmente con un pizzico di fortuna in più e qualche punto in più in trasferta forse si poteva anche pensare di fare più off Sì, perché abbiamo anche avuto molti infortuni durante la stagione, abbiamo perso pezzi importantissimi di Filippo, il corso della stagione, quindi per noi è stato molto difficile Il tuo bilancio, hai detto che sei molto contento di stare qua, una stagione positiva, molto positiva Vedremo cosa succederà in futuro Grazie Grazie